Prende il via la terza edizione del premio Arpa Mare, concorso per arti visive organizzato da Arpa Puglia in collaborazione con le Accademie di Belle Arti Pugliesi in occasione della World Ocean Day in programma l'8 giugno prossimo. Un'iniziativa per porre l'attenzione sull'indispensabile e fondamentale ruolo degli oceani e dei mari per la vita sulla terra. Anche quest'anno con la terza edizione del premio Arpa Mare vogliamo sensibilizzare ai temi ambientali, alla tutela del nostro meraviglioso mare, l'abbiamo fatto coinvolgendo le Accademie, i ragazzi iscritti alle Accademie perché ci possano presentare delle opere che riguardano appunto questo capitale naturale straordinario. Mettiamo in paglio 2.500 euro per il vincitore ma ci sono premi in denaro anche per il secondo e per il terzo e speriamo quindi di avere una massiccia partecipazione, invitiamo a partecipare perché mettere insieme la tutela dell'ambiente, il fattore culturale è un elemento di sinergia fondamentale. Due cose che convivono perché aumentando la sensibilità ambientale e culturale noi rafforziamo la nostra regione e rafforziamo anche l'ambition dell'Agenzia. Le opere premiate entreranno a far parte del patrimonio culturale di Arpa Puglia e saranno esposte presso una delle sedi dell'Agenzia regionale. È possibile quindi inviare le proprie opere via PEC all'indirizzo crm.arpapuglia.pec.rupar.puglia.it entro il 4 giugno del 2023. Grazie.